ragazzi buongiorno non lo so non so dire siano adesso ma adesso devo fare un blog lunghissimo faccia un blog lungo non so quanto vorrei fare sto blog però devo oggi si oggi mi devo togliere da me tutti i video che non ho registrato tutta la settimana non voglio togliere da mezzo giusto oggi perché non ho avuto tempo tutta questa settimana non ho mai avuto tempo di fare la sistemazione dei video miei e alla fine l'ho fatta ieri la sistemazione l'ho trovata a posto la sistemazione e niente e che volevo dire la mia sistemazione è stata trama tra tra tragissima in queste settimane questi giorni stanotte non si caricava la telecamera poi non andava questo poi non andava quello mi sono caricato e due tacche di carica e mamma mia ragazzi adesso qui il cavalletto ecco il cavalletto ragazzi stiamo andando di qua stiamo andando di qua per per provare un attimo un sistema come voi adesso ragazzi ci vediamo a bordi a bordi abbiamo un'attacca di carica un'attacca di carica si niente Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 e prima la mettiamo la proviamo qua la prendiamo i bagaglietti la prendiamo i bagaglietti la prendiamo il bagaglietti perché non resta essere un bagaglietti all'interno la prendiamo la manica la prendiamo la manica la prendiamo il bagaglietti il foro la prendiamo la parola la prendiamolo un richardino il hogar facile mentre Grazie a tutti. Ci chiediamo. Ok, no, Alberto. Ok, noi si proviamo a esmere. Ok, chiediamo. Ok, è controllato se posso aprire? Ok, sì. Ok, salito. Lei non è giusto salito, lo salito devono andrere. Non iniziate a aprire le bottiglie, signori. Ok, ok. Ok, non è io che la ora è giudizia. Ci chiedi, perché non è giusto? Non è giusto salito, ok? Ok. Ok, non è giusto. 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 Ok. Ok, non è giusto. Ok, non è giusto. Ok, non è giusto. Ok. Ok, non è giusto. Ok, non è giusto. Ok, non è giusto. Allora, video camera ho dovuto prendere. Ho dovuto prendere solo la videocamera. Ho preso. Ciao Grazie 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 Grazie